Presidente, signor Altra rappresentante, siamo al settimo anno di guerra in Siria, siamo di fronte alla pregiore crisi umanitaria dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ho visto in una mappa la dislocazione delle forze in campo e ci troviamo di fronte ad un mosaico di differenti realtà, con conflitti etnici e territoriali che apparano spesso inconciliabili. La situazione, lo sappiamo, è drammatica, ma non possiamo arrenderci. Occorre fare ogni sforzo per arrivare alla pace. E per centrare questo obiettivo non possiamo affidarci ai Paesi che sono oggi impegnati sul campo, che sono solo portatori dei loro interessi. L'unica speranza è che il lavoro che si sta svolgendo oggi a Ginevra, da parte dell'ONU, da parte di Stefan De Mistura, vada a buon fine. Onorevole Mogherini, l'unica cosa che si deve fare è sostenere con forza questo tentativo dell'ONU. E se non centriamo l'obiettivo della pace, la nostra azione, come Europa, potrà essere solo ed esclusivamente una, rafforzare il grande lavoro fin qui svolto in termini umanitari, sia all'interno della Siria, sia all'esterno, dove si trovano milioni di rifugiati. Se, come tutti speriamo, a Ginevra si arriverà ad una conclusione positiva, l'Europa avrà già le idee chiare su quello che si deve fare. Ho letto con attenzione la comunicazione presentata da lei lo scorso 14 marzo, in cui sono descritti in maniera chiara i sei punti su cui l'Europa dovrà agire. Su questi sei punti, che ci ha ricordato poco fa, penso che non possa che essersi un sostegno forte e convinto di questo Parlamento e speriamo che questo avvenga presto.